La 22esima giornata del campionato di prima categoria G1B metteva di fronte Castelfrettese e lettori Castelfrettese. Tre punti servono ad entrambe per raggiungere i rispettivi obiettivi, quello della promozione da parte del lettore Castelfrettese e quello della salvezza da parte dei biancorossi della Castelfrettese. Partono subito forti i padroni di casa che al quarto minuto reclamano un calcio di rigore per l'atterramento in area di Lazzarini per Paci e tutto regolare. All'ottavo sono gli ospiti a rendersi pericolosi con questo tiro dal limite, Mengarelli alza sopra la traversa. Al quattordicesimo minuto sono i biancorossi che sferono il vantaggio, la sfera termina alta di poco sopra il montante. La prima frazione termina con questa opportunità per gli ospiti non capitalizzata a parte il primo quarto d'ora a buon ritmo, per il resto non ci sono occasioni da segnalare. Passiamo con le immagini al secondo tempo dove le torri collezionano subito la prima palla goal con questo tiro dal limite ma la mira è da rivedere. All'undicesimo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con questa punizione della distanza che Mengarelli respinge. 24esimo minuto, corne per i biancorossi, la sfera finisce sui piedi di Bertotto che trova sulla sua strada un Recchi attentissimo. 31esimo, ghiotto occasione per i lettori con Castura che si libera in aria dalla marcatura di Quercetti ma il tiro è da dimenticare. Un minuto più tardi la replica biancorossi con Rinaldi che entra in area e lascia partire un destro che termina fuori di poco. Al 35esimo, bellissima triangolazione dei locali che porta al tiro roll on, la sfera termina sul fondo. Al 38esimo, l'abitro Paci di Ascoli sorvola su questo contatto in aria, Mazzieri spintonato da dietro cade a terra. Rivedendo il replay il contatto c'è stato tutto, la spinta pure, quindi calcio di rigore nettissimo non decretato per la Castelfrettese. Termina 0-0, un risultato che non può accontentare nessuna delle due compagini.